in prova gratuita ehhh dai insieme la gara non è online raga perchè non ho più plus vabbè faccio schifo io a guidare eh raga vai vai Watchdog 2 Per chi non lo sapesse è un gioco degli hacker Puoi hackerare dappertutto Non dico una vita rara, solo nel gioco Puoi rubare i soldi del telefono e tutte queste cose Ok, adesso iniziamo un po' concentrarmi Perché voce schifo gli udara Scusate ragazzi, volevo fare un trick Ma non ci sono riuscita Spaccato tutto Ragazzi, è inguidabile È inguidabile Sulla ferrovia è inguidabile Oh, no, no, no Scusate Allora No, no Se vi piace questo video Mettete un like No, no Si è buggato Corri, corri, corri 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 Continua Ragazzi, lei non posa perché non apri il classico Quindi proviamo È duro Ok Proveremo la prova gratuita di Formula 1 2018 e Formula 1 2016 Buongiorno Un'altra gara Ok Si è vero Mi potevo mettere in due A me piace sempre questa mossa Mi è sempre piaciuta su Watchdog Con questa moto si possono fare dei trick Però adesso non posso Vado un po' più lento perché ho paura di cadera Non si riesce a fare dei trick Si riescono a fare Però Non tanto Non so ancora come si fanno le cappiola All'indietro Però so fare l'internata Non so ancora come si fanno le cappiola Molto bello questo gioco ragazzi Scaricatevi la prova gratuita No 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 Hai dentro il checkpoint Madonna Non è là come guidabile sto moto Non gira Ok Che volo Sembra sangue questa acqua Tutta la rossa Dai raga E basta Facciamo l'ultima Se ci riesco Ok raga Puoi uscire dopo il video Puoi anche vederlo Ok ragazzi Siamo con la mia moto quasi preferita Beh comunque io fra tipo 10 minuti devo andare Ok Poi torno Ok Solo che devo andare a mangiare la mia nonna Ok Adesso va super veloce la moto Prima scassava le palle questa moto Adesso no 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 E basta Peccato tu non c'è Rainbow Plus Eh Non ho capito Peccato Magari tu avessi PlayStation Now e ti scarichi Rainbow Six Eh Anche PlayStation Plus per giocare le gare online e giocheremo anche insieme a Watchdog Eh ma Watchdog Io guarda che PlayStation Now poi non ce lo avrò più eh Lo so È PlayStation Plus poi Eh su PlayStation Plus Watchdog non c'ha No No però ci scaricherò la prova che puoi giocare lo stesso vai Eh ma ci potrò giocare tipo per 30-40 minuti Scusate raga come se posso Adesso non parlo più perché sto facendo il video Non parlo più Non parlo più Non parlo più Vada raga è impossibile Perché ti smonti tiri Vada No 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 Sto aspettando che si avvieni la partita No no raga No no ma che palle sta moto È una rompipalle sta moto Anche se è quasi la mia preferita Vai sopra l'auto adesso No No raga Ok andiamo Abbraccio 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 Facendo le gare vinciamo soldi Ok Mi sono salvato in un modo incredibile ragazzi Incredibile E abbiamo finito Ok ragazzi io vi saluto E niente Ciao ciao Dove di attivare il short light ma vuoi tu? Si No non si è chiuso il video Ma vabbè Ragazzi comunque Sto continuando il video perché mi cresce